che l'impatto di scienza naturale da ieri il mio livello di apprendimento è praticamente diventato avanzato clamorosa eh avanzato avanzato e vorrei mostrarvi come portare ora il vostro livello di disciplina all'attuale livello base a livello intermedio dal livello base a livello intermedio ecco bravo davvero in questa prima valutazione posso sentarti confermarli a livello intermedio posso mostrarvi ora qual effetto dovrebbe seguire a ciò che farò se lo capirete potrò finalmente ritenervi avanzato nel vostro livello di apprendimento delle scienze nazionali grazie a tutti grazie a tutti bravo grazie a tutti